Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Torniamo a parlare di Call of Duty, ma questa volta di Call of Duty Advanced Warfare, titolo sparatutto uscito l'anno scorso, sviluppato dalla Sledgehammer Games. Stessa Sledgehammer Games che ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter l'arrivo dei doppi punti per questo weekend su Call of Duty Advanced Warfare. Un weekend che inizia subito perché ha attivato proprio pochi minuti fa i doppi punti per tutte le piattaforme, quindi da oggi 25 novembre fino a lunedì 30 novembre. Quindi veramente tantissimi giorni in cui giocare su Call of Duty Advanced Warfare e avere a disposizione i doppi punti esperienza. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ma soprattutto a che prestigio siete e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.